In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello, visti gli articoli di legge, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 marzo 2012. In parziale riforma della sentenza al Tribunale di Palermo, appellata da Dell'Utri Marcello, tenuto conto dell'assoluzione irrevocabile pronunciata dalla Corte di Appello, con sentenza del 29 giugno 2010, con riferimento alle condotte contestate per il periodo successivo al 1992, assorbito il reato di cui è a capo A in quello di cui è a capo B e ha avuto riguardo alle condotte contestate fino al 1992, ridetermina in anni 7 di reclusione la pena allo stesso in fritta. Indica in giorni 90 il termine per il deposto della sentenza. L'udienza è tolta. Quindi non è solo mangano. Non ci bisogna leggere la notizia. Ci la leggiamo poi, dopo ci la leggiamo bene e poi vediamo. Intanto ci sarà una Cassazione, quindi l'inviamo tutto al tempo. Ma se dovesse andare a prescrizione lei si accontenterebbe, le basterebbe? Andreotti disse meglio di niente. Alla fine che cosa si accontenta? Non lo so. Mi sono domande che non hanno, scusate, non tantinezza con la realtà. Intanto prendiamoci questo. Poi vediamo quello che arriva. Tre collegi, tribunale, due corti d'appello. Anche la Cassazione ha comunque detto che lei è colpevole. Come vede tutto questo? Un grosso abbaglio, un complotto contro di lei? Ma questo non è esatto perché se no non avrebbe nulla con la Cassazione. La Cassazione però ha messo dei punti fermi sulle contiguità e il concorso esterno rispetto agli anni precedenti al 1977. Ma abbiamo detto che è così, d'accordo, grazie, ringrazio a tutti, ci vedremo nel prossimo. È un romanzo criminale che prosegue? Il romanzo criminale prosegue, non poteva finire questa puntata e invece visto che ha molta audience, come vedo, continua, faranno un altro supplemento delle puntate del romanzo criminale. Poi comincia la trattativa, poi ci sarà la trattativa, poi ci sarà la trattativa, il paese, la seconda repubblica, i rapporti con una cosa nostra. Stiamo in questo trip e ci stiamo. Cosa volete? Che faccio qualcosa? Qualche parolaccia? No? Perfetto, allora prendiamo questo così come viene. Prendiamo la vita come viene, cari signori. Imparliamo anche dai processi che cos'è la vita. Grazie e arrivederci.